Stamattina i studenti della nostra Prima C classico, indirizzo Tecnologie e Tecniche della Comunicazione, ha partecipato ad un evento organizzato dalla Polizia di Stato sul cyberbullismo. All'evento hanno partecipato più di 200.000 studenti in tutta Italia, con testimonianze importanti circa il bullismo, il cyberbullismo, una tematica che ci interessa purtroppo tutti molto da vicino. Quindi è fondamentale creare per loro delle occasioni di formazione su questi temi. La collaborazione con la Polizia di Stato per noi ormai è una tradizione. Abbiamo portato avanti in questi anni il progetto RED, Rete Educazione Digitale, con la Polizia Postale, che ci ha permesso di allestire un laboratorio teatrale, finalizzato a insegnare ai ragazzi il corretto uso di Internet, delle tecnologie e a difendersi dai pericoli della rete.